Buonasera, mi chiamo Alessandra Carbone e insegno lingua e letteratura russa all'Università di Siena, sede di Arezzo, al corso di laurea di lingue per la comunicazione interculturale e per l'impresa. Voglio fare con voi oggi un piccolo excursus sulla specificità dello studio della lingua russa in particolare oggi, cioè negli anni 2000 avanzati, ormai nel secondo decennio degli anni 2000 e raccontarvi qualcosa sulle strategie di studio, sulla didattica del russo e su quelle che sono anche le specificità della lingua russa. Vado a presentarvi il mio schermo, a farmi una breve presentazione. Intanto volentieri vi faccio vedere sulla mia prima slide quella che è una veduta poco magari conosciuta della città di Mosca oggi, Mosca che è la capitale della federazione russa. Magari vi aspettavate San Basilio, però San Basilio verrà, sarà con noi anche la chiesa di San Basilio questa nostra presentazione, ma questa è anche un'immagine della Mosca contemporanea. Il quartiere di Mosca è il quartiere di Mosca, cioè il centro finanziario e economico della Mosca contemporanea. Vediamo poi appunto qualcosa più in particolare per quanto riguarda la lingua russa, partiamo da zero, partiamo da piccoli step. Lingua russa in russo si dice ruski jazik. È una lingua slava orientale, quindi appartiene al sottogruppo delle lingue slave, lingue slave come il polacco, il ceco, il bulgaro, il macedone, il russo, l'ucraino, eccetera, solo per elencarne alcune. È una lingua slava orientale, le lingue slave orientali sono il russo, l'ucraino e il bilorusso e a sua volta appartiene, quindi, lingue slave orientali che appartengono al sottogruppo delle lingue slave, che appartengono a loro volta al grande gruppo delle lingue indoeuropee, come molte altre lingue, tra l'altro europee, solo per elencarne alcune, l'italiano, l'inglese, il tedesco, eccetera. È una lingua flessiva, è una sua caratteristica, ovvero sostantivi, aggettivi, pronomi seguono una declinazione, la desinenza di ogni parola racchiude dunque nel suffisso le informazioni relative al caso, quindi alla funzione grammaticale e morfologica della parola all'interno della frase o del sintagma, il genere maschile, femminile e il numero. I sostantivi russi hanno tre generi, maschile, femminile, neutro e sei casi. Sei casi, questo in questo, diciamo, il russo è molto simile al latino, per esempio, anche se i sei casi non corrispondono perfettamente ai casi della lingua latina. C'è il genitivo, c'è il dativo e l'accusativo, ma ci sono anche casi che in latino non ci sono, per esempio lo strumentale o il prepositivo. Vi ho qui riportato alcuni esempi di parole russe, proprio per mostrarvi alcune delle loro specificità morfologiche. Non ho avuto paura a inserirvi subito le parole, alcune di queste parole, in cirillico. Sapete che il russo ha una lingua che si scrive tramite l'alfabeto cirillico, ma credo che siate perfettamente in grado di capire il meccanismo. Per prima vi ho inserito delle parole in traslitterazione, quindi sono parole russe che sono state trascritte per comodità con l'alfabeto latino. Fra parentesi quadre invece avete la parola come effettivamente si scrive in russo, cioè in cirillico, e fra parentesi tonde avete poi la traduzione. E quindi parto con la prima parola, è una parola maschile, la parola телефон, telefon vuol dire telefono, molto semplice. Passo poi alla parola successiva, la parola femminile сумka, sumka, vuol dire borsa. E per ultima la parola neutra, un esempio di parola russa con genere neutro, che è ziereva, ziereva, vuol dire albero. In russo molte parole, in questo caso che hanno a che fare con il mondo vegetale, sono neutre, non tutte, non sempre. Alle parole neutre appartengono anche, per esempio, categorie di parole astratte, mi viene da pensare, ad esempio, alla parola russa snanie, che vuol dire conoscenza, ma anche parole russe che indicano oggetti inanimati. Ad esempio, la parola russa akno, che vuol dire finestra. Ma partendo proprio dalle basi e volendo con voi fare una prima sessione introduttiva alla lingua russa, non si può appunto non approfondire un minimo la problematica dell'alfabeto e quindi anche del lessico. La lingua russa si scrive, per l'appunto, come vi avevo accennato, seguendo un alfabeto diverso, l'alfabeto cirillico. Perché si chiama cirillico? Qui c'è una freccettina che va verso l'immagine della mia slide, che ritrae i due santi russi della chiesa ortodossa, ma non solo, che sono Cirillo e Metodio, Kirill e Mifogi, che sono gli ideatori di questo alfabeto, di questo modo di scrivere, e che hanno una storia molto affascinante. Di solito noi la sfrontiamo nei primi mesi del corso di storia della lingua, naturalmente, perché è imprescindibile questa storia. Costantino Cirillo e Metodio erano due fratelli, che erano originari di Salonico, Tessalonica, una città che si trovava, l'impero bizantino però, al confine con quelle che erano le zone dell'impero bulgaro, dunque una città dove c'erano delle comunità o delle colonie slave, slave meridionali, il bulgaro è una lingua slava meridionale, l'antico bulgaro è il tempo, e dunque questi due fratelli crescono bilingui, conoscono molto bene sia l'antico bulgaro, lo slavo meridionale, e il greco. Sono di ottima famiglia, studiano, lavorano entrambi in ambito intellettuale, e vengono chiamati, semplificherò un po', vengono chiamati ad una missione, come dire, di cultura, di diffusione di cultura, e soprattutto della religione cristiana, e si pongono il problema di diffondere i testi sacri e la religione cristiana tra popoli slavi, che però non hanno la cultura scritta, non hanno la scrittura. Dunque, come primo passo verso la diffusione della religione cristiana, naturalmente dei testi sacri, c'è bisogno di diffondere, di creare, di diffondere un alfabeto che sia adatto per i suoni, le specificità fonetiche delle lingue slave, in particolare, loro conoscono lo slavo meridionale o antico bulgaro, e quindi partono da lì. Conoscendo bene le specificità fonetiche del bulgaro, e non soltanto del greco, che loro conoscevano e utilizzavano quotidianamente, inventano, ideano, e poi non da soli avranno dei discepoli naturalmente che lavoreranno con loro, un alfabeto, il primissimo alfabeto, la prima prova, la versione, diciamo, così iniziale, è un alfabeto simbolico, molto complicato, che si chiamerà glagolitico. La seconda versione, che è quella, diciamo, definitiva, che tutti conosciamo come alfabeto cirillico, di cui appunto abbiamo ora anche oggi l'esempio, è appunto dedicato a Cirillo, Costantino Cirillo, che lavorò moltissimo a questo tipo di operazione culturale. Dunque, finalmente abbiamo una lingua slava scritta, specificità, approfondimenti, su questo ritornerò, ritorno sempre, di solito, quando poi organizzo il mio corso, ma volevo farvi vedere appunto questa icona, questa immagine, che ritrae i due monaci, i due fratelli, Costantino Cirillo e Metodio, nella maniera appunto canonica, ovvero con una pergamena o un libro in mano, perché vengono ricordati proprio anche dalla Chiesa, per aver inventato la scrittura e la diffusione della scrittura per i popoli slavi, tutti, e poi naturalmente questa tradizione culturale arriverà alla Ruschieviana e da lì poi, naturalmente, secoli dopo alla Muscovia, e vabbè, la freccettina può ingannare, in realtà il monaco a destra è Metodio, Mifosi, in russo, quello a sinistra è Kirill, Costantino Cirillo. Ed inque, dopo avervi fatto questa breve introduzione, proprio una pillola di storia della lingua russa, o meglio ancora, della scrittura in ambito slavo, vado a vedere quali sono proprio delle differenze immediate, anche superficiali, però non meno importanti, fra i due alfabeti, cioè l'alfabeto latino, e in particolare quello che riguarda la lingua italiana, e l'alfabeto cirillico. In cirillico ci sono 33 grafemi, quindi vuol dire volgarmente dette 33 lettere, 10 vocali e 23 consonanti, in italiano abbiamo 21 lettere, 21 grafemi, nella lingua italiana. La lingua russa è effettivamente considerata una delle lingue più difficili, è una lingua complessa, non che vi siano lingue facili da imparare, soprattutto se vengono naturalmente acquisite, se vengono studiate quando si è già grandi, grandicelli, diciamo dai 18-19 anni in su, ora io mi rivolgo a chi poi si vuole iscrivere all'università, quindi tutte le lingue, se studiate da grandi, sono difficili, se studiate da zero, però il russo ha anche delle specificità particolari, dal punto di vista fonetico, dal punto di vista grammaticale, e anche lessicale. Però ci sono alcune buone notizie, ad esempio, molte parole russe, derivano o sono state importate dalla lingua italiana, ad esempio la parola russa musica, musica, stavolta ho fatto il contrario, vi ho messo subito la parola russa, sono stata più cattiva, la parola russa in cirillico, e poi fra parentesi quadri avete la traslitterazione, quindi musica, e universitet, universitet, che vuol dire università, naturalmente, quindi sono parole che vengono appunto della lingua italiana, universitet in particolare, mutuata a sua volta dal latino. Non è finita, naturalmente, fra le buone notizie, nel senso che sono parole che ci sembrano vicine, che quindi, insomma, non sono troppo difficili da memorizzare, tra queste ci sono le parole di origine anglosassone, che vengono dalla lingua inglese o dall'americano, e questo perché? Perché naturalmente negli ultimi 20-30 anni, la quantità di parole che la lingua russa ha acquisito, importato con i prestiti linguistici dall'inglese, sono aumentati moltissimo, questo perché viviamo appunto in un'epoca di globalizzazione, di standardizzazione, unificazione di un certo tipo di espressività e anche, come dire, necessità comunicative. La prima parola che vi ho qui presentato è la parola russa компьютier, di cui trovate sempre la traslitterazione a destra, non vi sto neanche a dire cosa vuol dire, perché credo che l'abbiate già perfettamente capito. La parola business man, che vuol dire uomo d'affari, e quest'altra parola che è crowdfunding, che è una parola che i linguisti russi contemporanei, alcuni di loro almeno odiano, perché ritengono che sia una parola che, insomma, sicuramente è arrivata dall'inglese, viene da crowdfunding, dall'inglese crowdfunding, però ritengono che, insomma, non si sia ancora consolidata così tanto nell'uso e ritengono che forse si poteva utilizzare un sinonimo altrettanto efficace, direttamente utilizzando il russo. Ma, come dire, è l'uso, la diffusione, anche la statistica di uso che poi ha il sopravvento quando si tratta di una lingua straniera e quando si tratta in particolar modo anche dei prestiti linguistici. Se ormai questa parola crowdfunding è utilizzata veramente in maniera, non vi dico capillare, però è molto spesso utilizzata nella lingua russa contemporanea, evidentemente è perché viene ritenuta più produttiva e più efficace rispetto ad altre parole russe. Io no, ora, se volete vi spiego bene, viene crowdfunding, non è che una raccolta fondi, si intende questo, no? Per esempio, sono quelle raccolte fondi che partono anche online molto spesso per sostenere un progetto che potrebbe essere sostenere un progetto di tipo economico, far partire un'attività, far partire una startup e quindi si richiede il contributo di chiunque voglia partecipare dai 5, 10, 1000 euro o anche, per esempio, per, di solito si utilizza in ambito benefico, quindi si fa appunto quella che una volta si chiamava la colletta, una raccolta fondi per promuovere appunto una buona causa in qualche modo, no? Questa parola l'ho inserita perché facendo proprio una ricognizione di quelle che sono le parole di origine inglese più utilizzate nella lingua russa contemporanea, ce ne è tantissime, questa aveva anche una dignità, se vogliamo, dal punto di vista di utilizzo nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, perché ad esempio il quotidiano russo Kommersant, che è un quotidiano di divulgazione economica e analisi finanziaria, in realtà, più o meno come funzione assimilabile mutatis mutandis, ma comunque assimilabile al nostro il sole 24 ore, spessissimo negli articoli che si leggono su Kommersant, si ritrova questa parola crowdfunding, quindi insomma l'ho voluta inserire per dare un po' di colore a questa ricognizione sul lessico russo moderno, ma vado anche un po' avanti, vado a farvi conoscere qualcosa proprio sulle strategie di studio, perché anche questo è l'argomento della mia lezione, della mia breve lezione di oggi, ovvero le strategie di studio della lingua russa all'università, direi, all'università italiana. L'immagine che vedete non è un caso che io l'abbia scelta, è la foto di gruppo di una classe universitaria russa di San Pietroburgo nei momenti subito successivi alla discussione della tesi di laurea e questa è l'università di San Pietroburgo, quindi siamo di fronte a uno degli edifici principali dell'università di San Pietroburgo. Questa università è la più antica università russa, è stata fondata nel 1724 dallo zar Pietro il Grande, Pietro il Grande che è stato anche lo zar occidentalizzatore viene chiamato, lo zar riformatore ed è anche lo zar a cui si deve la fondazione della stessa città di San Pietroburgo che è stata fondata nel 1703 proprio sulle rive del fiume Nieva a nord della Russia praticamente sul mar Baltico. Questa università è stata anche sono particolarmente affrizionata alla SPBGU cioè alla San Pietroburgo perché ho studiato per un periodo presso questa università la considero per alcuni versi un po' anche lei la mia alma mater e ricordo come ogni mattina per raggiungerla facevo a piedi attraversavo a piedi il ponte sul grande fiume Nieva il ponte Dvarsovo in Most cioè il ponte del palazzo lasciandomi alle spalle sulla destra il palazzo d'inverno e l'ermitage attraversavo il ponte un po' con qualsiasi tempo atmosferico trovassi fino almeno 15 gradi mi è successo e poi giravo a sinistra facevo un'altra bella camminata e arrivavo all'università di San Pietroburgo che appunto dà sul fiume Nieva quindi si affaccia sul lungo fiume è un posto sicuramente molto pittoresco molto bello l'ho utilizzata appunto per raccontarvi quali sono per introdurvi quali sono le strategie di studio della lingua russa nelle università italiane naturalmente tutte chi più chi meno e ovviamente anche presso l'università di Siena presso il corso di laurea in lingue in cui io insegno naturalmente di solito si procede appunto per due binari paralleli che comunque al contempo vanno a completare la preparazione quindi a completarsi a completare la preparazione dello studente lo studio intensivo con il docente madrelingua quindi nel nostro caso il docente madrelingua russa che segue lo studente settimana dopo settimana giorno dopo giorno e lo studio con il docente di lingua e mediazione o mediazione come spesso viene chiamato nel nostro corso di laurea che è fa invece un percorso di approfondimento su alcuni temi particolari fa di focus che possono essere su storia della lingua aspetti di storia grammaticale aspetti culturali traduttologia teoria della traduzione tutto questo naturalmente senza abbandonare la didattica anche della lingua della grammatica il commento il commento linguistico a quello che lo studente sta parallelamente facendo acquisendo durante i corsi di monolingua questo perché perché naturalmente chi viene a studiare da noi non dovrà al termine del suo percorso universitario soltanto saper parlare o scrivere una lingua ma dovrà essere in grado di conoscerla in maniera approfondita anche dal punto di vista storico di descrizione grammaticale di struttura questo perché deve avere una preparazione il più possibile completa e che lo possa accompagnare un domani anche in un percorso di approfondimento nei corsi di laurea magistrale perché no dottorati master e quant'altro quindi è proprio una preparazione accademica nel senso che è il più possibile per quanto possiamo ma più possibile ci impegniamo completa sfaccettata quali sono le strategie il corso intanto di lingua straniera è annuale questo vuol dire che dura comincia a fine settembre e finisce a giugno dopo di che ci sono gli esami si è monitorati abbastanza come dire si è monitorati spesso quindi ci sono dei compitini ci sono delle prove intermedie proprio per tenere un pochino alta l'attenzione e al contempo anche avere un feedback continuo nella preparazione dello studente durante il suo percorso universitario per i corsi di lingua e mediazione il docente si basa spesso anche sulla lettura e l'analisi di testi in lingua russa questo già dal primissimo anno quindi già appena lo studente riesce comincia a sillabare a leggere e quindi riesce a leggere a voce alta e comincia a saper utilizzare i dizionari il docente comincia già subito a sottoporre testi in lingua testi autentici anche a volte più a seconda o a terzo anno ma insomma si prova già da subito che possono avere varie varie tematiche quindi dalla storia all'attualità la cultura l'arte l'architettura eccetera vi dicevo che c'è un controllo continuo tramite una tramite assegnazione di compiti essenzialmente quindi questo questo è imprescindibile noi diamo tanto veramente tanto cerchiamo di coinvolgervi cerchiamo di anche organizzare per esempio conferenze attività in più cfu seminari oltre magari alle ore alle ore di lezione che già sono impegnative però è necessario che lo studente poi a casa rielabori tutto il materiale tutto quello che è stato fatto a lezione faccia gli esercizi approfondisca utilizzi il dizionario faccia anche una banale ma mai mi stancherò di dirlo fondamentale operazione di memorizzazione di introiettamento di quello che viene poi insegnato durante la lezione questo ci tengo a dirlo perché sicuramente forse sarà scontato però lo voglio ribadire il corso un corso di laurea in lingue è un corso di laurea impegnativo dove si studia dove ci sono tante soddisfazioni dove se si lavora bene sicuramente si ottengono moltissime soddisfazioni prima accademiche dopo professionali però è ovvio che bisogna dedicare tempo allo studio e che tra l'altro preparare una materia come la lingua straniera la materia che può essere lingua russa lingua cinese lingua inglese lingua tedesca spagnola eccetera durante tutto l'anno è come dire è uno sforzo notevole le lingue straniere dentro il corso di laurea in lingue sono le materie più impegnative quelle che portano via sicuramente forse più tempo rispetto a tutte le altre e per lavorare bene per passare l'esame insomma in maniera soddisfacente è necessario un lavoro durante tutto l'anno quelle tecniche dell'ultimo momento che un po' tutti sicuramente ci ricordiamo abbiamo provato dell'ok mi preparo gli ultimi 20 giorni mi preparo l'ultimo mese prima dell'esame se sono non augurabili ma configurabili diciamo così in alcuni corsi di laurea o per alcune altre materie per la preparazione di un esame di lingua straniera non sono possibili perché altrimenti lo studente che magari ha fatto pochissimo tutto l'anno e si ritrova a studiare tutto negli ultimi 15-20 giorni non otterrà alcun risultato se non un incredibile mal di testa una grande confusione e quello che i russi chiamano kasha v galavie ovvero una grande confusione una grande confusione in testa finito questo momento di predica vado anche a dirvi qualcosa e si spiega il perché della slide che avete qua sulla sinistra che riguarda i materiali dell'internet russo che sono auspicabili vengono utilizzati almeno io li utilizzo moltissimo durante le mie lezioni quindi materiali che derivano da siti web blog social network russi immagini meme articoli a seconda naturalmente della difficoltà e che per l'appunto afferiscono quello che è il runet cioè ruski internet o l'internet russo che a sua volta si avvale di un motore di ricerca che non è google ma che è yandex ecco perché voi avete nella slide questa questa immagine di google versus yandex google contro yandex yandex è un motore di ricerca apposito che è stato come si vede nella slide mia successiva ideato fondato da due programmatori informatici russi molto famosi arkazi volos e ilia sigalovic i quali si sono accorti stiamo parlando negli anni 90 naturalmente del metà anni 90 i quali si sono accorti che era necessario probabilmente creare un nuovo motore di ricerca un nuovo browser perché google già sicuramente leader e comunque già attivo in quel momento non sembrava essere particolarmente performante perché vi sto parlando di motore di ricerca io che mi occupo di lingua e letteratura russa insomma sono una slavista anzi una russista sono russista pura quando appunto non è il mio mestiere non è la mia specializzazione beh perché la riflessione di sigalovic e di arkazi volos toccava prima variamente e assolutamente questioni di carattere linguistico sono questioni complesse però magari qualcosina la possiamo vedere insieme sono questioni che riguardano differenze linguistiche all'interno della programmazione all'interno del paradigma che poi avrebbe dovuto andare a strutturare appunto il motore di ricerca c'è una differenza abissale rispetto a google google è naturalmente stato creato da programmatori anglosassoni che soprattutto all'inizio lo ottimizzavano per le ricerche nella loro lingua cioè la lingua inglese che è una lingua che ha specificità molto diverse da quelle della lingua russa Yandex invece è un browser di tipo morfologico in russo si dice basato sulla morfologia della lingua e in particolare sulla morfologia della lingua russa che vi dicevo già nelle prime slide è una lingua flessiva quindi deve cogliere tutte le uscite delle parole russe oggettivi sostantivi pronomi quant'altro cioè anche deve acchiappare deve quindi restituire come risultato di ricerca perché è quello che fa un motore di ricerca le parole anche queste anche quando queste non siano al caso nominativo ma molto spesso all'interno dei testi che si trovano caricati che sono riversati all'interno del web il motore di ricerca deve riacchiapparle deve ripescarle anche quando queste parole sono declinate nei casi più disparati strumentale femminile plurale dativo maschile singolare genitivo genitivo maschile plurale e quant'altro quindi deve riconoscere deve andare a fare uno screening di queste uscite e poi capire che in realtà si sta trattando della stessa parola questo progetto fra l'altro è molto interessante perché in qualche modo attraversa tutta anche la storia se vogliamo della lingua della stampa della lettura perché i nostri Segalovic e Volosh per testare la primissima versione di Yandex come motore di ricerca utilizzarono la versione russa della Bibbia quindi novelli Gutenberg innovatori naturalmente secondo tutto un altro versante cioè quello della ricerca di un testo all'interno di un grande calderone che è internet in questo caso il web utilizzarono appunto la Bibbia la Bibbia tradotta in russo per per vedere come funzionasse quanto funzionasse la loro invenzione vado a parlarvi adesso della seconda fase delle strategie di studio qualcosa che magari di molto di molto anche qui non c'è nessuna formula magica però ci tengo a sottolinearla bisogna partire bisogna andare a studiare all'estero a fare delle esperienze formative e linguistiche di studio fuori dall'Italia di studio all'estero quindi paiechali partiamo andiamo questo naturalmente è super possibile assolutamente possibile anche presso l'Università di Siena e per quanto riguarda il nostro corso di laurea in lingue per la comunicazione interculturale per l'impresa abbiamo diversi programmi e diversi accordi internazionali con diversi paesi fra i quali naturalmente io adesso mi rivolgo ai russisti o ai futuri russisti c'è la Russia di nuovo avete un'immagine dell'Università di San Pedroburgo di un'aula dell'Università di San Pedroburgo e per illustrarvi quali sono brevemente i programmi di mobilità essenzialmente per siccome la Russia non fa parte dell'Unione Europea non possiamo parlare di programmi Erasmus l'Erasmus riguarda i paesi dell'Unione Europea però ci sono programmi più ampi e che stanno riscuotendo molto successo come l'Overseas e l'Erasmus Plus e l'Overseas lo conosco già molto bene sull'Erasmus Plus stiamo già lavorando come Unisì l'Overseas permette uno studio in paesi extraeuropei l'Università di Siena e il nostro corso di laurea ha accordi con gli Stati Uniti d'America la Federazione Russa l'Australia alcuni paesi dell'America Latina eccetera per consentire appunto questi periodi di studio all'estero e anche di sostenimento esami all'estero dai 3 mesi ai 12 mesi 12 mesi consecutivi si parte naturalmente dai 3 mesi consecutivi anche se i miei che partono stanno almeno 4-5 mesi quindi un intero semestre vanno lì studiano danno gli esami tornano e questi esami se vengono superati adeguatamente quindi non si boccia vengono riconosciuti in carriera lo studente al suo ritorno come si fa? c'è un bando si fa domanda per questo bando si viene naturalmente selezionati per merito per carriera si può partire o una volta sola all'interno del corso triennale oppure anche due volte si parte nel secondo e nel terzo anno ogni anno escono dei bandi e si può scegliere la meta nella quale si vuole andare a studiare in particolare i bandi al momento già attivi presso il nostro corso di laurea per quanto riguarda la Russia sono con l'università statale di San Pietroburgo che vi ho già fatto vedere con la ITMO University sempre a San Pietroburgo anche questa si trova in centro a Pietroburgo e con la Udmurt State University che è una università molto bella molto importante che si trova vicino agli Urali nella parte però ancora europea della Russia si studia molto bene ci sono fra i pro di questa università che magari gli studenti stranieri sono molti meno di solito i ragazzi preferiscono andare appunto a Mosca a San Pietroburgo soprattutto nelle prime esperienze alla Udmurt State anzi Udmurt che gli studenti occidentali sono molto meno e quindi si tende a fare amicizia ancora di più con i ragazzi russi si lavora molto bene i docenti sono veramente molto preparati e molto bravi soprattutto proprio nella didattica del russo come lingua straniera che è una branca assolutamente a sé nello studio della lingua russa della linguistica eccetera al momento sono in corso delle non trattative perché non è una trattativa comunque sono in corso delle nuove dei nuovi accordi con altre università russe in particolare con la Moskovsky Linguistice Universität cioè l'università linguistica di Mosca e con l'istituto Pushkin sempre di Mosca quindi stiamo ampliando il nostro raggio di accordi internazionali le prospettive allora sì un breve momento sulle prospettive un breve focus sulle prospettive lo voglio fare perché sia chiaro che se si studia bene se si studia con coscienza e si fa un percorso standard si arriva alla fine dei tre anni partendo da zero quindi da principianti assoluti ad un livello B1 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 nel quadro di riconoscimento naturalmente europeo delle lingue se si fa anche una bella esperienza all'estero se si va in overseas se si studia bene se c'è motivazione lo studente deve essere motivato portato motivato e approfondire si può arrivare tranquillamente al B2 non solo moltissimi dei nostri studenti più bravi quando tornano dall'estero oppure alla fine dell'anno accademico vogliono fare prendere la certificazione internazionale e così quello è un titolo in più che naturalmente è spendibile poi in tutto il mondo e molti di loro appunto sempre di più provano con il B2 e riescono a ottenere il B2 avere un B2 di russo alla fine di una appena di un percorso di laurea triennale è sicuramente molto molto bello è un'opportunità di lavoro già immediata perché si può già subito cominciare a lavorare e questo lo dico per esperienza personale perché mi è successo quando sono stata studentessa e quando ho avuto un B2 di russo già alla fine della triennale ai miei tempi in ambito del turismo quindi nel management del turismo turismo di livello quindi sto parlando del turismo un po' di lusso del turismo che appunto ha a che fare con una clientela sempre più internazionale e con la clientela russa che viaggia che viene in Italia che come dire visita i punti i punti di interesse più più ambiti io sto parlando di un'università che si trova in Toscana naturalmente la Toscana è ai primi posti per questo tipo di turismo in ambito culturale quindi di approfondimento per esempio come guida turistica come come esperto anche di come si può dire di diffusione guida turistica ormai è un po' un contenitore che mantiene diverse aspetti cioè chi fa più un experience di non so agriturismi e chi invece si concentra proprio sulla storia dell'arte e lavora con i grandi musei in questo caso toscani però ovvio che per quello ci vuole anche un approfondimento in più insomma bisogna lavorare sulla conoscenza della storia dell'arte in ambito aziendale e immobiliare assolutamente naturalmente il mio consiglio poi è anche vedere cosa si vuole fare perché un buon livello di russo e un bel titolo di studio triennale con la conoscenza della lingua russa non solo non preclude ma come dire invita a proseguire gli studi con una laurea magistrale o un percorso di laurea magistrale o un master dunque questo naturalmente poi sta ai vostri desideri perché naturalmente questo è auspicabile per chi volesse lavorare in ambito appunto culturale quindi prendendo una specializzazione linguistica letteraria lavorando nell'editoria come operatori editoriali culturali traduttori correttori adesso c'è l'ambito audiovisivo e quindi il sottotitolatore chi lavora proprio nella produzione post produzione nella traduzione di documentari film serie tv che sono sempre più più richiesti oltre che in quello editoriale ma c'è anche appunto soprattutto per chi prosegue in una laurea magistrale e volesse poi virare verso l'ambito aziendale come dire coniugando esperienze all'estero in Russia stage in Russia la conoscenza della lingua l'approfondimento nelle lauree magistrali e un percorso di tipo economico lavorare in quelli che sono al momento i settori dove il russo va per la maggiore io vi ho messo qui le immagini del Salone Internazionale del Libro di Torino perché nell'ambito culturale è una delle piattaforme delle manifestazioni per cui in Italia l'editoria russa e i traduttori dal russo hanno sicuramente un grande spazio e la Nigeria Modi in ambito come dire più economico aziendale cioè Nigeria Modi è la settimana della moda di Mosca che esiste da 25 anni e per cui sicuramente gli operatori in questo ambito che conoscano molto bene il russo e lavorino come anche con un background economico importante possono sicuramente avere una buona riuscita quindi insomma io ritorno all'idea di dove andare perché dove andare si parte per la Russia ma anche ritorno all'idea di scelta di un percorso di vita spero che questa mia lezione così introduttiva nel mondo della lingua russa e delle sue opportunità e strategie di studio oggi vi sia piaciuta e vi auguro tutto tutto il meglio e vi ringrazio grazie mille grazie mille